per questo aggiornamento nell'oblast di kursk sembra proprio che le cose per i russi si stiano mettendo male allora vediamo la situazione fondamentalmente al 21 di settembre con gli ucraini che già stavano cominciando ad avere nuovamente il sopravvento nella zona di ljubimovka e con l'espansione nella zona di veselo e in direzione di gruskovo in tutti gli altri settori fondamentalmente i russi hanno cercato in tutti i modi di fare piglia prendi eccetera eccetera ma non hanno ottenuto nulla di realmente di realmente tangibile se non fosse che in realtà gli ucraini adesso probabilmente stanno riuscendo o stanno completando quello che si erano posti di fare e cioè quello che avevano detto che i russi stavano cadendo in una trappola che gli ucraini si stavano ritirando apposta per attirarli in questa trappola in questa situazione dove si andava a chiudere e che in teoria si sarebbe dovuta praticamente concretizzare in questo movimento fondamentalmente allora qui con gli ucraini che dovevano prendere alle spalle i russi che avanzavano verso l'ubimovka e così via con questo movimento chiuderli in una sacca c'è anche da dire che c'erano unità ucraine che comunque provenivano da sud e andavano in direzione nord il fatto è che almeno stando alle ultime geolocalizzazioni questa cosa sta funzionando sta funzionando e sta funzionando al danno comunque di unità russe che non sono quattro scalcagnati ma sono sia unità vdb che unità di fanteria di marina anche se insomma la 155esima brigata di fanteria di marina russa non è che fosse proprio dei veri e propri fulmini di guerra in quanto era un'unità ricostituita quasi da zero dopo essere stata distrutta nel settore di buledar insomma pare che questa manovra questa questa tenaglia questo accerchiamento dalla zona del gluscovo district che è per inciso è questa zona qua e dalla risposta del settore di corenevo che è questa zona qui stia funzionando e infatti se noi andiamo a vedere come si è evoluta la situazione abbiamo questa situazione adesso questo è l'aggiornamento di oggi dove vediamo che la zona di kulbaki la zona dove i russi stavano attaccando cioè qui si è molto ridotta si è espansa la zona dove gli ucraini stanno ottenendo conquista altre conquiste territoriali e soprattutto il movimento per andare a cerchiare i russi che si erano espansi verso snagost e così via perché questa zona adesso è sicuramente nelle mani ucraine soprattutto qui a bia covo e vena poi e asda so a pana apana socca perché ci sono le geolocalizzazioni di combattimenti proprio in questa zona e quindi praticamente snagost è stata superata almeno a sud dalle unità ucraine che piano 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 stanno chiudendo questa sacca ora bisogna vedere se nella zona a nord gli ucraini riescono di nuovo a farsi sotto a corenevo e a andare a colmare praticamente tutto questo settore qua questo bisogna vedere se ce la fanno a farlo quindi questo è interessante come si sta delineando probabilmente un mezzo disastro per i russi nella zona dell'oblast di kursk soprattutto nella zona occidentale la zona orientale la zona nord in questo momento sono tra parentesi quiete nel senso che si i russi si fanno avanti gli ucraini li respingono poi sono gli ucraini che indietreggiano i russi si fanno di nuovo avanti poi il contrario è una specie di lascia e prendi ma senza nessun reale disastro per gli ucraini disastro che invece si sta profilando per i russi nel settore tra komarovka serpovka snagost muzizza cioè quella zona dove avevano praticamente attaccato giusto per quindi l'evoluzione è davvero positiva spero che questo piccolissimo aggiornamento sia di vostro gradimento e come sempre io invito chi non è iscritto a iscriversi al canale è assolutamente gratuito e andare a cliccare sulla campanellina per avere gli alert sulle prossime attività del canale detto questo il bar di red comment e vi saluta come sempre vi ringrazia per il sostegno che dato al canale